Prima di iniziare il video ti ricordo di Premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace Grazie Gianni Morandi non smette mai di sorprendere i suoi fan, sia nella vita reale che sui social Il celebre cantante, da sempre noto per la sua simpatia e disponibilità, ha recentemente fatto parlare di sé grazie a un divertente scambio di battute con una fan La scena si è svolta sulla riviera romagnola, dove Gianni ha accettato di fare un selfie con una sconosciuta, regalando ai suoi follower un momento di pura ironia Nella foto, che ha già raccolto migliaia di like, vediamo Morandi e la sua ammiratrice sorridere felici al tramonto Entrambi indossano pantaloncini colorati e t-shirt nere, un look casual che mette in risalto l'atmosfera rilassata del momento La didascalia scelta da Gianni per accompagnare lo scatto è stata altrettanto spiritosa, riviera romagnola Stasera una bella sconosciuta mi ha chiesto un selfie Ma il vero spasso è arrivato nei commenti Un utente ha scherzato scrivendo, di la verità Gianni, sei stato tu a chiedere il selfie a lei, e il cantante ha prontamente risposto, come l'hai scoperto? La battuta che ha scatenato l'ilarità generale, però, è stata un'altra Un fan, riferendosi all'incontro, ha commentato, lei fortunata di averti incontrato, tu un gran signore Con il solito spirito ironico che lo contraddistingue, Gianni ha ribattuto, non mi sembra una fortuna così grande Ti piace il video? È una continua fonte di intrattenimento grazie ai contenuti che pubblica quasi ogni giorno, tra foto, video e storie che raccontano la sua quotidianità Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti Grazie mille per essere stati con noi oggi Speriamo che il video vi sia piaciuto Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video